Guglielmo di Sherwood. Della vita di Guglielmo di Sherwood, logico inglese del XIII secolo, sappiamo relativamente poco. Tra il 1235 e il 1250 lo troviamo operativo come magister artium a Parigi e proprio a Parigi ebbe modo di insegnare logica, successivamente, dal 1252, ricoprendo anche il ruolo di insegnante a Oxford, proprio da quel momento rimarrà in Inghilterra e qui deterrà l'incarico di cancelliere di Lincoln fino al momento della sua morte, morte che è da collocarsi all'incirca fra il 1266 e il 1272. Guglielmo di Sherwood è noto principalmente in quanto autore di alcuni importanti trattati di logica, le introducciones in logicam, i sin categoremata, il de insolubilibus e le obbligazioni, sulla cui autenticità sono stati peraltro recentemente sollevati alcuni dubbi. Le introducciones, che sono state scritte verosimilmente intorno al 1250, rappresentano uno dei manuali di logica terministica più impiegati nel Medioevo, insieme alle summule logicales di Pietro Ispano. Questi trattati sono attraversati da una robusta preoccupazione verso l'insegnamento della logica nelle scuole, che si riflette poi in una sistematizzazione precisa del materiale presentato e nella tendenza ad analizzare in maniera approfondita le regole formali del discorso che presiedono alla formulazione di proposiziones e di argumentaciones. Le introducciones di Guglielmo di Sherwood si strutturano a ben vedere come un trattato introduttivo alla logica, distinto in sette parti che si occupano rispettivamente della proposizione delle sue parti, della dottrina dei predicabili, del sillogismo, della topica, vale a dire dei luoghi logici su cui fondare un'argomentazione, dei termini e delle loro proprietà, dei sofismi e dei suncategoremata, vale a dire di quei termini, come le costanti logiche, che guadagnano senso solo in relazione ad altri termini. Mentre le prime quattro parti riprendono le idee alla base dell'organo aristotelico che formavano la logica vetus, la quinta parte introduce la dottrina delle proprietà dei termini, i quali termini sono intesi come soggetto o predicato di un enunciato, la significatio, vale a dire la rappresentazione concettuale di un termine, la connotazione, i vari tipi di supposizio, la denotazione, il materialis, simplex, naturalis, appunto la supposizione che può essere materiale, semplice o naturale, che spiegano le modalità con cui un termine può stare per un suppositum, ed infine l'appellazio e la copulazio, le quali rappresentano le altre funzioni semantiche della significatio di un termine. Proprio per via del rilievo di queste problematiche connesse alle proprietà dei termini all'interno dell'opera, questo tipo di logica sarà chiamata terministica. Il sesto capitolo dell'opera si occupa invece delle fallacee, vale a dire dei sillogismi falsi, e segue la trattazione aristotelica del de sofisticis elenquis, cioè delle confutazioni sofistiche, mentre la settima parte prende in esame l'uso dei termini sincategorematici. Per quel che riguarda poi i sincategoremata, essi rappresentano un'opera intesa per un pubblico già avanzato negli studi della logica. In quest'opera si investiga sul significato logico e semantico di quelle parole, come le costanti logiche, che da sole non danno alcuna determinazione di contenuto, ma sono funtori logici che prendono significato solamente in unione con un nome e un verbo, e così determinano un intero enunciato. Guglielmo di Sherwood distingue allora fra termini descrittivi, categorematici, e termini logici, sincategorematici, e pone l'attenzione sulla possibilità di un impiego categorematico di alcuni termini in certi contesti, e sincategorematico in altri. Per quel che riguarda il de insolubilibus, infine, ci si occupa dei paradossi logici in quest'opera, come quelli connessi ai problemi di autoreferenzialità, ad esempio il noto paradosso dei mentitori, e ci si occupa anche dei modi possibili di affrontarli e di risolverli. Per concludere, la logica di Guglielmo di Sherwood esercitò davvero una grandissima incidenza, non solo sugli altri trattati di logica terministica immediatamente successivi rispetto al suo, come quelli di Lamberto di Uxer e di Pietro Ispano, ma anche su tutta la logica modernorum, fino ad arrivare a Guglielmo da Occam.